benvenuto a questo nuovo video agosto sta finendo e sale l'attesa sale l'attesa per la nuova stagione di caccia 2023 2024 molte regioni hanno tardato a pubblicazione il calendario venatorio nonostante ciò sono stati tanti ricorsi già in campania è stata bloccata la preapertura sostegno per gli amici campani nel lazio ancora non si sa nulla insomma nonostante manchi davvero poco sono tanti i dubbi per la prossima stagione venatoria sei fortunato se inizi davvero a breve altrimenti dovrei presentare un pochino quel giorno è però davvero dietro l'angolo e sarà un po come quando andai a scuola finiscono le vacanze ed inizia il nuovo anno anno ricco di nuove avventure speranze e buoni propositi sai che i compagni lo scorso anno ci saranno tutti o quasi ci potrebbero essere nuovi compagni nuove prove o nuovi esami e questo è il bello della caccia la sua imprevedibilità e la sua magia di sorprenderci sempre il tiro più bello e la padella più clamorosa ci accompagneranno per tutti i futuri anni e ci faranno entusiasmare ed emozionare per il resto della nostra vita al solo ricordo a seconda dei calendari venatori i principali protagonisti delle nostre prime giornate di caccia potranno essere la fulminea tortora il bombardiere dei cieli colombaccio oppure i cosiddetti ma rispettabili nocivi gli appartenenti alla famiglia dei corvidi quali cornacchia grigia ghiandaia e gazzalato essendo la tortora purtroppo una specie in forte declino vi sono stringenti limiti sul numero di prelevi possibili per questo motivo su molte regioni è attivo il cosiddetto tesserino elettronico tramite app dedicata o xcaccia è possibile censire l'abbattimento in maniera tale da bloccare il prelievo al raggiungimento della quota stabilita quello che è certo che tutti noi stiamo cominciando a guardarci attorno si inizia con i giri per l'ustrazione andiamo a vedere i nostri soliti posti o a cercarne di nuovi cerchiamo di capire soprattutto per chi non vive la ruralità quotidianamente se tutto è rimasto come ci ricordiamo se qualcosa è cambiato se le culture sono cambiate e soprattutto se c'è la presenza selvatici in zona per chi non conosce è bene affidarsi a qualche amico più esperto o in alternativa può anche utilizzare google earth se non lo conosci un servizio gratuito con il quale può vedere il mondo tramite le immagini satellitari le immagini che vedi non sono real time in basso a sinistra generalmente trovi la data di quando è stata fatta la ripresa a volte passa anche uno o due anni rimane però un ottimo modo per perlustrare rapidamente un'area trovare una strada o valutare la conformità del territorio da qui puoi supporre le traiettorie selvatici ti basta individuare le possibili aree di riposo le aree di pastura ovviamente serve solo a darti le indicazioni la perlustrazione è andare sul luogo di persona è l'unico modo per chiederti le idee cerco una zona alberata vicino a dell'acqua e dei possibili campi o per le nostre amiche tortore dei bei girasoli quello che puoi fare anche utilizzare la funzionalità street view con il quale vedi le immagini direttamente da terra e quindi hai un altro angolo di visione per poter valutare meglio le aree e capire le altezze dei rilievi attenzione possibile spoiler video per apertura questa è la zona che ho frequentato negli ultimi anni qui come puoi vedere quest'area che non si capisce bene cos'è in realtà è un bel laghetto qua attorno al laghetto è tutto coltivato qui puoi vedere i campi lavorati è proprio qui dove vedi questi due aree verdi non sono altro che dei montarozzi di felci e cespuglie io mi nascondevo proprio lì quest'anno invece è molto dura perché non hanno coltivato grano ma hanno coltivato broccoli che non sono proprio ideali per il colombaccio a settembre tuttavia l'aria attorno rimane molto buona come puoi vedere c'è anche molto verde e soprattutto c'è un grande bosco in cui la mattina i colombacci partono e si spostano verso le aree di pastura devo solo capire quest'anno che zona frequenteranno e tu che cosa mi racconti che tipo di caccia farai hai già scelto le zone sei già andato a vedere i posti ti racconto un aneddoto carino appena uscito il calendario venatorio lo tendevamo con tanta crepitazione mi ha chiamato subito il mio amico filippo in maniera molto contenta perché innanzitutto ci hanno concesso in calabria per apertura ma soprattutto potevamo portare i nostri amati cani anche perché sinceramente e credo che chi è il cane vuol capire le giornate di caccia senza il cane non passano mai la prima cosa che ha fatto filippo organizzare una super festa a casa sua fra amici cacciatori e appassionati io ringrazio sia filippo per l'invito che la madre per aver cucinato in maniera stupenda la selvaggina dalle sgaloppine fatte con i petti dei colombacci funghi alle beccacce ripiene ai tordi in sugo e tordi alla genovese era tutto sta buono ed accompagnare il tutto salumi tipici calabresi fatti in casa tra olio del buon pane e dell'ottimo vino locale grazie a tutti